Ragazzi, adesso andremo a giocare a Dakinator e vediamo se mi riesco a trovarmi, ok? Vediamo. Ero qua, incominciamolo subito subito. Il tuo personaggio indossa vestiti femminili? No. Il tuo personaggio è diventato famoso grazie al calcio? No. Il tuo personaggio è reale? Certo, perché sono io. Il tuo personaggio è stato scoperto grazie al youtuber? Sì. Il tuo personaggio è famoso grazie al minicraft? No. Il tuo personaggio è un videogiocatore? No. Il tuo personaggio ha cantato una o più canzoni? Andiamo a no. Il tuo personaggio ha pubblicato un video con la propria ragazza? No. Il tuo personaggio ha i capelli? Certo che c'erano grazie. Il tuo personaggio vive ancora con i suoi genitori? Sì. Il tuo personaggio hanno youtuber? Sì. Il tuo personaggio fa parte di un duo? No. Il tuo personaggio ha la potente? Nein. Il tuo personaggio è famoso su musicali? Nein. Il tuo personaggio è un bambino? Nein. Sono io. Il tuo personaggio porta gli occiali? Sì che li porto. Il tuo personaggio ha i capelli blu? No. No, 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 ti sbagli. Il tuo personaggio ha un fratello famoso? No. Il tuo personaggio ti conosce? Come è lei? Il tuo personaggio ti conosce? Buh, diciamo sì. Buh, non lo so. Il tuo personaggio cavalca un unicorno? No. Il tuo personaggio ha composto musica saga? No. Il tuo personaggio ha un fratello di nome Jack? No. Il tuo personaggio ha un neo? No. Il tuo personaggio è un tuo conoscente? No. Il tuo personaggio ha scritto il colombre? No. Ma io non ho scritto niente? No. Ma com'è? Ha trovato un altro. Ha trovato a Dario Torisi. Ragazzi, è da non crederci. Non mi ha trovato a Rineto. Vabbè, vi saluto. Ciao, ciao. 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 Ciao.